Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio portare un gioco, di ruolo ovviamente, che aspettavo da una vita ma non mi aspettavo che sarebbe riuscito in edizione italiana Si parla della leggenda dei Cinque Anelli, un gioco edito dalla Fantasy Flight Games e portato in Italia e localizzato dalla Need Games che io ringrazio veramente di cuore per averci offerto una copia per la recensione per avermi trattato veramente come un amico quando sono venuto allo stand vostro allucca comics and games e soprattutto per avermi dato anche i dadi da gioco ora perché tanto vi spiego come funzionano e perché ci sono questi dadi particolari che secondo me sono la trovata più bella che ho visto in questa nuova edizione parlando della leggenda dei Cinque Anelli si parla di un'ambientazione simil storica ambientata più o meno nel periodo Edo, per farvi un'idea in un mondo che si chiama l'impero del Rokugan, l'impero di Smeraldo che ricorda un po' il Giappone feudale in periodo Edo-Sengoku insomma quel periodo storico di più Edo forse e l'ambientazione è molto classica quindi il Giappone feudale dell'epoca per quanto in questa ci siano demoni, folletti, oni malvagi quindi creature demoniache e soprattutto forte e molto presente la magia quindi un'ambientazione heroic fantasy ma anche tanto è l'ambientazione del Giappone quindi l'ambientazione del Rokugan e dell'impero di Smeraldo è proprio quella del Giappone feudale in periodo Edo quindi non è nemmeno difficile capire come funziona, come ruota un gioco del genere anche perché la legge che muove i guerrieri Bush in questa ambientazione è il Bushido, la via del guerriero quindi come vedete sono tutte cose che appunto rimandano alla cultura nipponica di quegli anni, di quei secoli là e è molto bello e di facile comprensione perché chiunque come me che sono mezzo tatuato con roba del Giappone addosso abbia la passione per queste cose qui alla fin fine legge l'ambientazione una mezza volta e proprio ti sembra di leggere come cortocircuito numero Johnny 5 cioè giri le pagine così perché tutto quello che va a leggere dell'ambientazione è clan a parte saprai già tutta la cerimonia del tè il Bushido il Genpuku il Seppuku quindi l'uccisione rituale il suicidio rituale dei samurai e tutto quanto quindi l'ambientazione scorre che è una bellezza il regolamento l'ho trovato molto bello ma tanto le conclusioni ve le do alla fine poi ve lo faccio vedere al piano piano l'ho trovato molto bello e anzi più bello della vecchia versione io ci avevo la prima che era la prima fatta in italiano che era del 99 o 2000 qualcosa del genere e poi sono arrivati fino alla terza o quarta edizione non vorrei dire una cavolata tutte in inglese non l'hanno mai più tradotte e questa invece quarta o quinta edizione mi sembra la quinta l'ha riportata in Italia la Need Games traducendolo completamente e in più quando lo comprate c'è la possibilità potete giocare anche con dei semplici dadi però c'è la possibilità di prendere anche questi dadi qui a parte che ragazzi sono bellissimi e vi consiglio di prendere il pacchetto insieme tanto spenderete sulla cinquantina d'euro e non tanto di più vi faccio vedere un po' come funziona manuale di quest'ultima edizione che tra l'altro è bellissima cioè ah tutti i disegni sono tutti quanti colorati e hanno un po' cambiato lo stile di gran parte dei disegni almeno del 50% che sembrano i vecchi dipinti su tela del periodo appunto e in più vedete questo disegno in copertina bellissimo che si vede quello che sembra essere sicuramente un samurai però con un'armatura del genere potrebbe essere anche un'armatura cerimoniale di un daimyo e di qua si vede quella che sembra invece essere una samurai ko o comunque una combattente di sicuro non una cortigiana disegno bellissimo e aprendo già c'è una tavola stupenda guardate che spettacolo il classico poster che si trova a volte nei ristoranti giapponesi al walk ora scherzi a parte bellissimo con questo panorama dietro sembrano montagne potrebbe sembrare quasi una catena montuosa un po' schia tutti quanti gli alberi e il classico ponticello che passa su un lago su un fiume qualcosa del genere allora una cosa che poi comunque la considerazione finale appunto ve la do il cosa ne penso a fine del video qui ci sono tutti quanti ringraziamenti ve l'ho detto gioco edito dalla Fantasy Flight e dalla Need Games in Italia c'è una cosa che capita subito all'occhio perché ovviamente la prima cosa che si apre quando si va a vedere un gioco di ruolo o comunque un manuale è il sommario e la prima cosa che capita all'occhio che un pochino mi ha fatto storgere il naso però non me l'ha scombussolata più di tanto perché comunque l'ambientazione già la conoscevo da prima vedete c'è l'introduzione e diciamo 18-20 pagine vabbè ho preso anche il capito parte piccola a parte il capitolo successivo ci sono 20 pagine di ambientazione e poi il resto delle pagine sono tutte regole del gioco e questo è qualcosa che potrebbe buttare alla Livornese potrebbe buttare un po' di fuori varcuno cioè nel senso potrebbe un attimino mettere paura a soggezione perché comunque l'ambientazione vera e propria sono 20 pagine che secondo me sono troppo poche però ambientazione che poi regola per regola viene spiegata è chiaro perché magari quando arriverete all'abilità Bushido vi dà dei dettami vi descrive sotto cosa era il Bushido nell'epoca oppure semplicemente anche la cerimonia del tè e vi dice come veniva usata appunto come viene usata nell'ambientazione Rokugan quindi le stesse abilità hanno una piccola parte di ambientazione ambientazione che vi segue per tutto il manuale però 20 pagine di ambientazione su 333 sono poche ora almeno un 70 80 pagine 100 massimo me le sarei aspettate comunque non è sicuramente un problema quell'inizio c'è una storiella vedete due portavoce dei relativi clan che sono fra quelli più importanti dell'ambientazione del Rokugan dell'impero di Smeraldo della leggenda dei cinque anelli che sono il clan Bayushi che sono praticamente del clan dello scorpione e mentre invece di qua c'è la famiglia Doji se non erano vestiti così di blu dovrebbero essere capelli bianchi dovrebbero essere loro che sono la mano sinistra e i cortigiani al palazzo imperiale quindi la mano sinistra dell'imperatore del clan della gru e qui il gioco ci dà ovviamente la descrizione dell'ambientazione ci dice chi sono le divinità in gioco le sette fortune i dieci kami che ovviamente i kami sono le divinità più importanti del pantheon scintoista di questa ambientazione che sono la dea del sole Amaterasu Omikami il dio della luna Susanoo che tra l'altro è il marito di Amaterasu e poi tutti gli altri dei kami e divinità e tre kami uno più importante è ovviamente tutti quanti i kami sono quelli che hanno dato vita ai vari clan perché infatti i clan in questo gioco hanno sempre un nome vabbè il nome non è tanto giapponese o comunque nipponico comunque per farvi capire hanno sempre una divinità di riferimento collegata appunto a questi kami o anche clan minore alle sette fortune e uno di quelli più importanti sicuramente è Fuleng che è il dio dell'oscurità e della morte è un po' una specie di figlio ribelle fra tutti questi kami ci fa vedere i cinque anelli che i cinque anelli ovviamente sono acqua aria fuoco terra e poi c'è il quintanello che è il vuoto la leggenda dei cinque anelli viene ovviamente dal libro dei cinque anelli di Miyamoto Musashi Takezo Shinmen il più grande spadaccino che il Giappone di quell'epoca abbia mai conosciuto e quindi questo gioco si rifà appunto alla concezione che la vita è tutta quanta guidata e generata da questi cinque anelli più l'anello del vuoto che praticamente è l'anello che tiene unito l'universo e tiene uniti tutti quanti quest'altro quindi niente potrebbe esistere senza l'anello del vuoto anello del vuoto che nelle regole del gioco ha una parte importantissima se non addirittura la più importante e poi ovviamente se va avanti con l'ambientazione come vi dicevo guardate belli i disegni ci sono anche disegni classici e normali come quello in copertina o delle due donne dei clan che vi ho fatto vedere però guardate belli questi sembrano veramente dei dipinti storici del Giappone feudale bellissimi e poi si arriva alla parte più importante che è il codice del Bushido che è quello che muove il personaggio perché i personaggi in questo gioco ci sono due classi soltanto occhio virtualmente ce ne sono 16.000 perché potete anche fare lo shinobi potete fare anche se il master lo permette il ninja per quanto i ninja in questa ambientazione qui sono visti come spettri e leggende ma lo potete fare potete fare il cortigiano potete fare il monaco ma le classi di partenza sono due il samurai ovvero il Bushido il combattente e lo shugenja lo shugenja è colui che utilizza la magia ed è comunque un samurai perché è visto con lo stesso rispetto di un samurai e il samurai lo sapete è un servo del signore del suo clan del suo daimyo e del suo popolo nonché ovviamente dell'imperatore e anche lo shugenja è lo stesso per quanto è più la parte laddove il samurai picchia in corpo a corpo o tira con l'arco lo shugenja usa le magie e qui come nel vero Bushido infatti sono i veri kanji ci sono i vari dettami del Bushido che sono compassione coraggio cortesia dovere e lealtà ovviamente verso il proprio signore onore c'è nemmeno bisogno di dirvelo tutto rotantone all'onore regolamenti di questo gioco rettitudine e sincerità ovviamente dettami che solo dall'1% dei samurai come nel vero giappone feudale vengono seguiti però comunque sono dettami che rompendo una di queste promesse fatte appunto nel codice del Bushido il samurai dovrà fare il rituale di sventrarsi di squarciarsi il ventre con la wakizashi o col tanto che poi nel daisho dei samurai è la spada quella più piccolina che potrebbe essere un coltello un pugnale e qua giù vedete tutte quante le divinità che vi dicevo prima i kami che queste sono le sette fortune le fortune poi sono migliaia perché c'è la fortuna del raccolto la fortuna della fertilità la fortuna degli alberi la fortuna dell'estate però queste sono le principali che potete trovare nel gioco e ovviamente sono descritte poi in maniera molto più articolata andando avanti i clan del gioco che sono quelli più importanti anche qui clan maggiori ma niente vi vieta di far parte di un clan minore che sono altrettanti e altrettanto belli tra l'altro il clan del granchio che ora poi vi descrivo il clan del drago il clan della gru il clan del leone il clan della finisce il clan dello scorpione il clan dell'unicorno e la famiglia imperiale per farvi una veloce carrellata dei clan del gioco il clan del granchio sono quel clan visto un pochino più roggio da tutti gli altri che si seguono il bushido tutti quanti tutti i clan anche quello più infimo tipo lo scorpione lo seguono tutti seguono dei tammi però sono quelli un po' più roggi perché vivono alla frontiera hanno eretto un muro grosso tipo un po' la barriera di game of thrones e sono quelli che proteggono l'impero e tutto il resto dei clan dai demoni e dei mostri che stanno oltre la barriera quindi nelle terre dell'ombra governate come vi ho detto da quella divinità malvagia da quel kami malvagio Fuleng il clan del drago che sono un clan mistico che vive molto di meditazione il classico clan che vedete nei cartoni animati dove c'è il samurai che prega in cima alla montagna oppure il samurai che prega sotto la cascata sono un clan che cercano comunque l'illuminazione cercano l'esperienza anche viva nel combattimento perché ad esempio il clan del drago sono gli unici che in combattimento utilizzano sia la katana che la wakizashi quando sapete bene che era vietato ed è vietato anche qui questo gioco ragazzi è il giappone si chiama Rokugan impero di smeraldo vi giuro cambiate di nome è il giappone quindi anche in questo gioco ci sono tutti i dettami del periodo Edo combattere con katana e wakizashi quindi con due armi una per mano come faceva Miyamoto Musashi è vietato ma loro sono un clan che ne hanno fatto una tecnica particolarmente avanzata che si chiama il Niten Ichiryu che praticamente vorrebbe dire lo stile dei due cieli quindi appunto usare le due spade a loro non è tanto il fatto che a loro è consentito però ci hanno fatto una tecnica di Kenjutsu di scherma che avvalla questa loro teoria che l'altra mano debba impugnare un'altra spada quindi un clan visto anche abbastanza rivoluzionario ma allo stesso tempo temuto dagli altri il clan della Gru che sono fanno parte della famiglia Doji e tante altre famiglie che sono la mano sinistra dell'imperatore quindi loro sono un clan di veramente cortigiani abilissimi maestri di spade infatti lo Yai lo Yaijutsu che è l'estrazione rapida ovvero l'avete visto anche nei film tipo i sette samurai è quella classica tecnica quando il samurai estrae la spada e ti colpisce subito durante l'estrazione quindi estrae ti colpisce e la rinfodera l'hanno inventata loro sono grandi artisti grandi maestri di scherma e soprattutto sono i maestri di spada della famiglia imperiale quindi tutti quanti i membri della famiglia imperiale hanno sempre come maestro o cortigiano o dignitario a corte e tutto quanto uno del clan della Gru il clan del Leone sono la mano destra invece dell'imperatore perché sono un clan più classico possibile vi avrete presente il classico samurai retta all'onore lijo e tutto quanto è un clan del Leone quelli che ancora si fanno la rasatura dei capelli con il codino in cima e sono l'esercito dell'imperatore quindi tutti i più grandi guerrieri dell'impero sono assolutamente loro infatti l'armata imperiale che è composta da tutti i clan ma al 90% dal clan del Leone i combattenti di prima linea e da esercito più che il samurai per strada che fa i duelli il clan della Fenice che sono il clan mistico per eccellenza e praticamente il clan della Fenice sono quelli che studiano il Tao di Shinsei il Tao di Shinsei sarebbe un insegnamento religioso mistico di questa ambientazione del Rokugan dove si va in contatto appunto col kami con gli dei con la natura ma soprattutto con la magia quindi se volete andare a interpretare uno Shugenja comunque un castante qualcuno di forte nella magia mao però più che altro la magia mao forse è quella malvagia nella magia in generale il clan della Fenice è quello che fa per voi si passa al clan dell'unicorno che è un clan molto bellino ricordano un po' i mongoli per farvi capire di un'ambientazione del genere che sono una via di mezzo fra un clan di samurai giapponese radicato e qualcosa di più barbaro perché il clan dell'unicorno è andato via dall'impero di Smeraldo ed è tornato dopo centinaia di anni perché volevano esplorare cosa ci fosse oltre il mondo conosciuto quindi appunto l'impero del Rokugan sono usciti sono entrati in contatto con molti altri popoli entrando in contatto con altri popoli ne hanno preso anche in parte le usanze quindi a volte non è difficile vedere un samurai dell'unicorno con l'armatura da samurai e tutto quanto e un pelliccione grosso come potrebbero avere i barbari di altre culture oppure no perché magari vederla addosso anche con dei pezzi di armatura fatti di osso o di altri materiali insomma sono il clan che più di tutto si è fuso con le culture esterne che ci sono fuori quindi se anche volete ambientare un'avventura e sapere cosa c'è fuori dall'impero di Smeraldo il clan dell'unicorno sono il clan perfetto il clan dello scorpione sono un po' cambiati in questa nuova edizione della Need Games nella prima edizione che avevo io erano più si erano le spie dell'imperatore e gli assassini ma allo stesso tempo erano un clan un pochino infimo bastardo e soprattutto beffardo rispetto agli altri clan questa volta no paradossalmente paradossalmente il clan dello scorpione sono quelli più onorevoli e più leali alla causa imperiale dell'imperatore in persona che l'imperatore Antaei in questa ambientazione come vi ripeto ancora per le maledizie a volte nel Giappone Edo è visto come la divinità il clan dello scorpione è quello più leale anche più della gru e del leone sono i più leali di tutti però hanno meno onore e meno gloria perché fanno il lavoro sporco che non vorrebbe fare nessuno l'imperatore vuole uccidere un nemico che potrebbe rubargli il trono o cose del genere per quanto si va in discendenza dinastica non c'è problema non lo può andare a ammazzare pubblicamente perché perderebbe la faccia ci va lo scorpione il clan del leone come esercito imperiale ha bisogno di il daimio del leone ha bisogno di ammazzare qualcuno o magari di dare fuoco a un castello oppure perché no fare qualsiasi altra cosa magari rovinare il mercato di qualcun altro non lo possono fare pubblicamente e mandano lo scorpione quindi i classici ninja tra molte virgolette o shinobi fanno tutti parte del clan dello scorpione che nemmeno a dirvelo è il mio preferito poi si conclude con la famiglia imperiale che è possibile giocarla però non è un vero e proprio clan la famiglia imperiale sono tutti come ve l'ho detto cortigiani figli cugini zii nonni insomma che fanno sono un 5000 fanno tutti parte della famiglia imperiale e vivono tutti quanti a corte poi ci sono i clan minori tipo il clan della volpe il clan dell'amantide il clan della vespa che sono tutti quanti clan minore che vivono sotto i clan maggiori quindi degli altri clan nei territori dei clan però sono clan che non si possono interpretare poi se li volete interpretare le regole ci sono anche ed sono anche bellini come storia perché tutti quanti cercano di farsi vedere di guadagnare il favore imperiale per poi magari passare a essere veri i propri clan senza essere visti come clan minori si è chiaro eh comandano anche loro da morire hanno castelli terreni e tutto però diciamo che rispetto ai clan maggiori sono i vassalli per farvi capire sono anche loro hanno daimi e tutto quanto e poi c'è la mappa di gioco non si vedrà perfettamente perché è tutto scritto in piccolo comunque vedete il mare le terre dell'ombra che vi ho detto quelle da cui arrivano di qua sono tutte piene di morti demoni e classiche creature del giappone della mitologia giapponese e di qua tengo e cose del genere di qua ci sono le terre del granchio che hanno eretto questa muraglia a difesa come vi dicevo delle terre dell'ombra e poi tutti gli altri territori del clan dei vari clan che vedete qua giù sia clan maggiori che clan minori e la mappa è fatta veramente molto bene poi lo stile come è disegnata ragazzi per un fanatico come me del giappone infatti non ve l'ho mai nascosto è uno dei miei giochi preferiti cioè un toccasana i dadi del gioco sono questi qua che sono dadi a 6 facce neri e dadi a 12 facce bianchi con vari simbolini se volete usare il comune dado da 6 che avete in casa in tutti i giochi del mondo potete usarlo e il manuale vi dice a seconda del numero che vi esce c'è una tabella che vi dice quale simbolo è non so quanto possono costare ma quanto vorrei costare questi dadi perché hanno costato 10-15 euro e poi sono bellini da morire quindi se vi posso da un consiglio prendeteli insieme se siete fanatici di questa ambientazione e anche roba da collezione che magari un giorno non si troverà nemmeno in più quindi prendeteli a priori comunque nel gioco ci sono i 5 anelli ovviamente come si chiama il gioco che sono le varie caratteristiche del personaggio più ci sono le abilità le abilità sono il dado bianco gli anelli sono il dado nero semplicemente vi faccio ragazzi un'infarinatura perché ci vorrebbero 18 ore di video se no per spiegare anche perché ve l'ho detto è tutto regolamento sto manuale comunque per fare una prova si tirano tanti dadi neri quante sono le caratteristiche dell'anello cioè il valore dell'anello e tanti dadi bianchi quant'è invece il grado dell'abilità quindi mettiamo caso il grado nell'anello sia 2 2 dadi neri e il grado nell'abilità sia 1 o anche lì magari facciamo 2 si tirano 2 anelli per si tirano 2 dadi per l'anello e 2 dadi per l'abilità facciamo conto che uso il kenjutsu corpo a corpo ho il grado 2 ecco i bianchi e l'anello che ora vi spiego ce n'ho 2 ora quando si vanno a tirare i dadi si tirano questi dadi si guardano poi ora vi dico i risultati che escono si guardano i risultati che escono e potete tenere tanti dadi quant'è il vostro grado nell'anello ok quindi se nel vostro avete un valore di 2 nell'anello come vi ho detto prima che sono questi dadi potete massimo tenere un valore di dadi quante sono quelle dell'anello quindi potete anche tirare 10 dadi però se avete 3 nel grado dell'anello ne tirate 10 ce ne tenete 3 quindi magari fra questi deciderete quale tenere questi due oppure questi due oppure anche ovviamente mischiati fra abilità ed anello ora questo gioco qui e anche per questo è giustificato il fatto che abbia tante regole è allora la quinta edizione della leggenda e cinque anelli è tutto buttato sulla narrazione ed è una cosa che ho prezzato da morire però da una parte come ho detto per 7C è bello per i giocatori perché è tutto buttato sulla narrativa dall'altro lato per il game master potrebbe essere un po' lento macchinoso e più che altro le azioni potrebbero durare più del dovuto perché ci sono 5 anelli nel gioco ve l'ho detto ve ne parlo di 4 perché il quinto sarebbe quello del vuoto nel gioco vi faccio l'esempio più classico io voglio impugnare la katana ok quindi kenjutsu abilità di corpo a corpo e voglio attaccare un altro giocatore speriamo di no un nemico un NPC lo vado ad attaccare e il game master ferma il gioco e fa come lo vuoi attaccare lo voglio attaccare con un colpo veloce e mirato a disarmarlo visto che è un'azione che non è irruenta ma un'azione più che altro è coreografica è fatta con una certa attenzione all'arte della spada per disarmarlo dovrai tirare il tuo grado nell'abilità kenjutsu che è 2 e poi magari prendiamo l'anello dell'acqua perché l'anello dell'acqua è quello lo sapete come la forma dell'acqua le onde e tutto quanto è una cosa più utilizzata appunto per i kata del combattimento quindi non portata per fare male per ferire o per uccidere quindi magari tirate i due dadi abilità più il grado che avete nell'anello dell'acqua 1 e tirate 3 dadi ma se cambiasse il giocatore dicesse no non lo voglio disarmare voglio tirare un corpo che lo decapito li stacco la testa non tirerete più l'abilità più l'anello dell'acqua ma il game master vi potrebbe dire tirate ovviamente l'abilità che sempre kenjutsu quello non cambia quindi altri due dadi bianchi più questa volta tira sull'anello del fuoco magari nell'anello del fuoco ho 3 dadi quindi rispetto all'azione dell'acqua ne tiravo 3 rispetto all'azione del fuoco invece ne tiro 5 come vedete perché ce n'ho 3 neri per l'anello e 2 per l'abilità quindi questa è una cosa che è facile però per il game master è un pochino più complicata perché a seconda di come farete l'azione da come la descriverete l'anello cambierà perché l'anello ad esempio del fuoco è per l'attacco diretto una cosa più renta no passionale un attacco fatto per portare una vittoria sul campo di battaglia o magari anche una sconfitta invece quello dell'acqua è più una cosa mirata magari per saggiare le difese dei nemici e cose varie poi c'è l'anello dell'aria e tutti gli altri quindi come vedete a differenza di tanti altri gdr attacco con la spada ok spada va su agilità attacco con l'arco ok l'arco va su percezione qui no qui a seconda di come descrivete l'attacco va su un anello differente ed è quello il bello e il brutto di questo gioco che se un anello lo avete troppo basso vuoi quelle azioni lì sarà difficile farle o meglio faccio l'esempio il clan del granchio che sono quelli votati con martello a domani ammazzati sul corpo a spaccati la testa difficilmente faranno un'azione come il clan della gru prova a disarmarlo oppure prova a fargli una ferita che non lo so lo ferisca una gamba e lo faccia zoppicare no il clan del granchio andrà sempre di botta a ucciderti quindi se quando il clan del granchio toccherà fare un'azione basata sull'anello dell'acqua o magari dell'aria avranno sicuramente meno dadi rispetto ad altri clan che è anche una cosa bella secondo me e poi quando andate a tirare i dadi vedete qui c'è una leggenda che secondo me questa è in assoluta la cosa più bella del gioco andate a tirare un dado e potrebbero uscire uno di questi simboli quindi prendiamo il dado bianco nel caso che esca questo simbolo che vedete qui come riportato qui è un successo quindi quando sul dado esce questo simbolo è un successo quindi tenetevelo vi ricordo potete tirare i 2000 dadi ne tenete quanti è la caratteristica dell'anello quindi magari io sull'anello sui dadi che ho tirato mi tengo questo se esce questo è un successo esplosivo che praticamente è questo simbolo qui è un successo esplosivo quando esce un successo esplosivo non solo conta come successo quindi lo sommo magari a quello che ho fatto prima non solo vale come successo quindi già ne ho fatti due ma in più ritiro il dado quindi lo ritiro guardo cosa mi viene successivamente e se mi viene un qualsiasi altro valore posso decidere se tenerlo o non tenerlo perché magari potrebbe essere anche una cosa che mi va contro quindi se mi viene un altro colpo lo aggiungo e addirittura se mi riviene un'altra esplosione lo ritengo in più lo risommo come successo va da 3 e lo ritiro potrei andare avanti all'infinito poi c'è un'opportunità quando invece esce questo simbolo qui non è un successo l'opportunità non conta come successo però praticamente potrebbe dare un'opportunità varia a un successo che è uscito prima cosa vuol dire con questo ho colpito quindi ho provato a colpire il nemico si l'hai colpito vai tira per i punti ferita però con questo dado con l'opportunità posso aggiungere un successo particolare che ne so l'ho colpito gli faccio i punti ferita ma in più l'ho preso in una gamba e l'ho buttato per terra quindi il prossimo colpo lo farò con un bonus perché il tizio è steso a terra possono essere ovviamente opportunità che nel caso se facciate un fallimento vi potrebbero sempre salvare la faccia perché posso anche dire l'ho colpito no non l'ho colpito però comunque il mio colpo è passato talmente vicino che gli ho messo paura capito quindi l'opportunità non sono mai successi ma servono per incrementare un successo e poi l'ultimo ma non meno importante anzi forse quello più importante di tutti che è il turbamento è questo simbolo di un cuoricino che vedete qua giù il turbamento è una sotto caratteristica particolare che non vi sto a descrivere comunque il funzionamento è che quando esce un turbamento voi dovete prendere e segnarvelo da una parte sulla scheda che avete ricevuto un turbamento quando arriverete a averne tante quanto è il valore di due anelli uniti che potrebbero darvi un valore di 5 o 10 quando arriverete al massimo del turbamento il vostro personaggio sarà turbato e un samurai quando è turbato potrebbe commettere un passo falso che ne so potrebbe arrabbiarsi durante un combattimento e il samurai non può le dare vita alle emozioni così sconfinate e sciolta brillo e sciolta perché deve sempre mantenere un atteggiamento impassibile oppure semplicemente il samurai che vede arrivare la sua amata e in mezzo a tutta la gente alla corte imperiale la prende l'alza da terra e gli dà un bel bacio in bocca non può essere passionale così un samurai un samurai è una statua è tipo il witcher deve essere una figura comunque impeccabile oppure anche semplicemente potrebbe darsi che un samurai in un momento di una cerimonia del tè sia abbastanza maldestro e ritremi la mano rovescia il tè per terra e faccia una figuraccia quindi il turbamento va laddove il samurai è stato colpito nell'orgoglio e quindi è particolarmente nervoso e questi ragazzi sono le regole del gioco però ovviamente regole poi qui vi fa vedere come si tengono i dadi quali dadi potete ritirare e cose varie le regole ragazzi sono centomila volte di più perché poi questo gioco l'ultima cosa che vi dico e poi chiudiamo ha una creazione del personaggio molto sofisticata e io questa cosa l'adoro tanta gente l'ho sentito che si lamentava perché diceva per fare il personaggio ci vuole una sessione ma infatti come su cyberpunk la prima sessione prendetela solo per fare i personaggi quando vi troverete dagli amici a presentare la leggenda dei cinque anelli dovrete dirgli ragazzi la prima sera si fa solamente la creazione dei personaggi perché si chiama la parte delle 20 domande il gioco vi pone 20 domande voi rispondete a tutte a fine delle 20 domande avete la scheda dove siete nati qual è il vostro clan di appartenenza chi erano i vostri genitori quali sono i vostri pregi avete studiato in una scuola di scherma perché poi ci sono anche i cata le scuole di scherma e quant'altro quindi per creare il personaggio è in assoluto la parte più importante del gioco ma lunga parte quando sarà finita la parte di creazione avrete un personaggio unico e fatto su misura non D&D che il guerriero A è uguale al guerriero B più o meno qui avrete un personaggio che non ha nessun altro importantissimo ovviamente onore sono i valori più importanti del gioco gloria e status l'onore del vostro personaggio che si può guadagnare o perdere la gloria che ha conquistato sul campo di battaglia e per il favore imperiale che si può guadagnare o perdere e lo status ovviamente potreste perdere anche lo status di samurai diventare un ronin o comunque nel tempo andare avanti magari diventare il daimyo o un maestro successore del vostro clan quindi comunque è molto 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 ampliato come regolamento in conclusione questo gioco secondo me parte con una buonissima idea sia chiaro la valutazione è positiva ora ve la dico però parte con dei buonissimi presupposti che ti fanno credere qualcosa e poi non ti dico che te la stronca però un po' te la cala te la ammorbidisce questa concezione perché te come tutti i manuali che secondo me sono i migliori lo prendi lo vai a aprire a volte sono dei manuali che appena li apri ci sono 180 pagine di regolamento dopo l'ambientazione ma prima fa mi legge l'ambientazione che almeno è più leggera mi calo nella parte e poi anche le regole mi rimangono più facilmente in testa perché se te prima mi metti non so niente di Giappone magari te mi metti scritto ninjutsu e kenjutsu abilità e io non so cosa sono poi magari me lo spieghi in fondo nell'ambientazione e questo è fatto perfetto perché all'inizio ti dà tutta quanta la visione dell'ambientazione del gioco e dopo le regole regole che dalla prima edizione che ho in italiano e dalla seconda che ho in inglese sono cambiate da morire perché sì c'è sempre il tira e tieni come vi ho detto tirate tanti dadi e tenete quanti l'anello cioè sempre state così però narrativo come vi ho detto nel vecchio edizione che c'ho io ad esempio attaccare con la katana andava sempre su un anello qui invece a seconda dell'attacco che fate lo disarmo magari va su aria cerco di debilitarlo va su acqua gli voglio spaccare la testa va su fuoco va su terra quindi qui cambia e anche questa è un po' la cosa che secondo me lo appesantisce perché dal giocatore è bellissimo perché dice a seconda di come fa la scena il game master ti fa tirare un dado rispetto a un altro quindi quello che c'ha tanto fuoco anello del fuoco mirerà sempre a distruggerti soprattutto se è un granchio mentre quell'altro magari che ha più alto l'anello dell'aria cercherà sempre di fare colpi mirati o cose varie e questo è bello per i giocatori per il master un po' meno perché c'ha da tenere tante cose a mente quindi un master alle prime armi va a giocare un gioco del genere si mette paura e poi come ho detto all'inizio quello che non questo proprio non mi è garbato apri il manuale ci sono 20 pagine di ambientazione e poi ce ne sono 310 più o meno 300 310 non siamo più ignoli di regolamento che poi anche nel regolamento c'è l'ambientazione perché ve l'ho detto kenjutsu abilità dell'attacco con le armi da taglio quindi katane wakizashi e sotto c'è tutta la descrizione magari c'è 10 righe che vi dicono come veniva usata nel rokugan che viene insegnata nelle scuole dell'imperatore o anche note al lato della pagina della need games che ti spiegano tutto quindi l'ambientazione c'è ragazzi però nel vecchio manuale della leggenda dei cinque anelli veniva spiegata molto di più cioè non erano le prime 20 pagine erano molte di più e comunque cioè sembra che questo manuale dia per scontato che chi lo compra si intenda già di giappone o delle ambientazioni capito ossia un giocatore che viene magari dalle prime edizioni che abbia comprato espansioni e quant'altro abbia comprato questa nuova cioè 20 pagine di ambientazione che ti spiegano bene o male tutto ti dicono chi sono i clan chi sono i kami le divinità però poi ti spiega veramente poco cioè ad esempio della capitale Oto Sanushi non ti dice nulla cioè sì c'è uno due note in tutto il manuale però la capitale Oto Sanushi che è la capitale dell'imperatore nel vecchio manuale c'era un capitolo a parte ti spiegava tutto come si muovevano i carretti i cortigiani magari anche i bagni pubblici ti riscriveva qualsiasi cosa e soprattutto come avveniva il commercio in quelle zone lì nel fiume anche nel fiume dorato ti raccontava tutta la zona di come viveva agricoltura pastorizia pesca tutto quello che c'era da sapere ti spiega veramente poco a livello di ambientazione magari se vi apprende tutto non sono 20 pagine sono anche 50 in ambientazione però te le frammenta e non sono di facile lettura per tutto il manuale io avrei fatto se l'avessi fatto io avrei fatto le prime 50 pagine di ambientazione che proprio ti deve entrare in testa la cultura perché anche le cavolate che sono importanti in un gioco del genere quando un samurai si siede a tavola mette la spada sul lato destro ok perché tutti i samurai erano destri di mano se eri mancino c'era qualcosa che non andava quindi se nascevi mancino ti spaccavano il braccio fino a che non imparavi a usare il destro un samurai che si siede al tavolo di un daimyo dello shogun dell'imperatore e mette la spada sulla sinistra è una cattiva usanza perché la spada messa sulla sinistra vuol dire che io con la destra la posso sfoderare e posso ammazzare chi ho davanti infatti i samurai quando si siedevano mettevano la spada a destra perché con la sinistra cioè nel senso capito saresti un po' impacciato uno che non ha mai usato la sinistra magari non ce la fai nemmeno estrarla una cavolata ma il manuale non me lo dice la vecchia edizione si lo diceva qui no oppure anche semplicemente come si svolge la cerimonia del tè c'era tutta quanta un'usanza un ballo rituale quant'altro e poi magari uno pensa cerimonia del tè faccio il tè lo bevo è finita lì no c'era tutto il rito anzi bere il tè era l'ultimi due minuti dopo le due ore che c'era una danza rituale e gesce cortigiani e quant'altro cioè sono cose che questo manuale dà per scontato che tu le sappia e la gente non le sa cioè portare un gioco del genere in mezzo a gente che di questa ambientazione non conosce niente non è facile poi ribadisco perché poi non voglio vedere i commenti magari ma te le spiega te le spiega il manuale le cose però di tutto quello che c'è da sapere ti spiega un quinto veramente e fosse stato per me 100 pagine di regolamento avrei fatto 100 pagine di ambientazione e 200 di regole perché questo gioco se le dovessi dare in percentuale è un 15% di ambientazione e tutto il resto veramente un 85% di regole che sono troppe per quanto il gioco sia narrativo c'è troppa roba ragazzi c'è troppa 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 carne al fuoco non da tenere a mente da tenere a mente dadi per l'abilità e dadi per l'anello ragazzi è finito il regolamento davvero non vi serve altro però come funziona quello come funziona quell'altro qual era quell'abilità anche perché non ci sono soltanto le abilità ci sono le scuole ci sono le scuole di combattimento tiro con l'arco c'è troppa 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 roba comunque è tutta roba che piano piano col tempo leggendo questo e documentandosi un po' su internet magari basta anche vedere qualche film l'ultimo samurai cose del genere i 7 samurai tentano in testa quindi se le devo dare un voto assolutamente a questa edizione le do un bell'otta e mezzo su 10 mi è piaciuta da morire fatta da paura ci ho trovato un paio di errori ma stupidi quindi ci ho fatto asuri leggendo la seconda volta se no passavano quindi tradotto bene tutto quanto impaginato da paura disegni bellissimi quindi un 8 e mezzo su 10 meritatissimo però sarebbe potuto tranquillamente essere un 9 e mezzo un 10 ve l'ho detto io avrei giocato molto di più sull'ambientazione perché la cosa importante della leggenda le 5 anelli non solo le regole è l'ambientazione ti ci potevi mettere anche un dado da attirare così quanto ho fatto ho colpito quanto ho fatto ho mancato due pagine di regolamento e il gioco sarebbe stato altrettanto bello tutto lì comunque è un gioco assolutamente da avere trovate il primo link in descrizione per ordinarlo e comprarlo consiglio spensierato prendetevi i dadi non li volete c'è l'app non li volete nemmeno l'app c'è il dado da 6 ma prendeteli perché sono talmente belli che io ho paura che vadano fuori produzione e non si trovino più quindi comunque è roba da collezione e fatemi sapere insomma cosa ne pensate io ringrazio ancora una volta Need Games per averci offerto una copia per la recensione ed averci trattato veramente come degli amici ragazzi è un onore grazie di cuore e per qualsiasi cosa siamo qui ciao ragazzi alla prossima